Io sono Carlo Mocchi Sismondi, sono il presidente di Forum PA e sono, come vedete, entro dei loghi sulla slide, una o due delle due società che organizzano questo incontro. L'idea però non è mia, l'idea di Roberto Masiero è la mia da essere, quindi la farò spiegare con molto più dovizia di particolari. Io ci tengo solo a dire che Forum PA ormai da 22 anni si occupa, 23 ormai quasi, si occupa dell'innovazione della pubblica amministrazione e siamo stati particolarmente colpiti e stimolati da questo tema. Il rischio di questo bellissimo palazzo che voi vedete, quello splendido Lampadario, questa grande sala, è che si diventi molto Palazzo Chigi centrici, prima Palazzo Vitori centrici, poi Palazzo Chigi centrici, poi Governo centrici, poi Roma centrici, poi Italia centrici. Se non riusciamo a spiazzare dal nostro punto di vista e riuscire a vedere, metterci in tanti, riuscire a cogliere tanti punti di vista diversi, rischiamo di avere anche delle cose, in questo caso di government, un giudizio molto parziale e quindi è stato per me un piacere, diciamo anche una grande stimola intellettuale di questo convegno di oggi, questo seminario di oggi, che proprio è voluto essere proprio a livello seminariale, c'è un tavolo, c'è un microfono per intervenire, c'è fatto apposta perché si è considerato un momento di lavoro, non un momento di vetrina, di passerella, un momento di lavoro. Proprio mi ha stimolato molto questa idea del progetto di government visto da due punti di vista così diversi come nei paesi occidentali e i paesi in via di sviluppo. Un tempo avevamo detto paesi sviluppati e adesso sono su questo sviluppo dei paesi sviluppati qualche problema ce l'abbiamo in questo momento, quindi siamo meno contenti, meno rassicurati nel parlare di uno sviluppo lineare, neanche per i paesi che sono considerati maturi. L'e-government certamente è una grande occasione, una grande opportunità, come lo è l'economia del web nel senso lato. Questa riflessione è stata al centro, come sapete, delle riflessioni dell'IGF in Kenya, quindi dell'Internet Governance Forum, che ha ragionato proprio che cosa volesse dire lo sviluppo di Internet per i paesi in via di sviluppo, per superare un divide che non è solo geografico, ma molto spesso geografico, culturale, di tecnologie e di mezzi. Qualche modo potesse essere possibile questo salto. Oggi lo vedremo con dei protagonisti, lascio a Roberto Masiero il compito di presentarli. Per me come forum piante, solamente un ultimo punto, sarà il nostro compito come forum piante vedere sempre più gli aspetti dell'e-government, gli aspetti dell'open government. Sapete che abbiamo lanciato un grande processo di strategico relativo all'open government, all'open data, cercare di vederli sempre da punti di vista che non siano solamente i nostri, non siano solamente centrati sull'Italia, su Roma, sul governo, alla fine su questa stanza, ma siamo sempre più decentrati e visti da un punto di vista diverso. Grazie a voi che siete qui e grazie a Roberto che l'ho organizzata, perché già da stasera cerchiamo in un, vedendo un oggetto come l'oggetto di governo, in un momento cercheremo anche di capire che cos'è, perché se avete un oggetto a 360 gara, vi trovo un po' che è una sola dimensione, perché ha molte dimensioni diverse, cercheremo di vederlo da più punti di vista diversi, che come sempre è l'unico modo per imparare a conoscere come muove, a volte che a volte ci sembrano scontate, banali, semplicemente perché sulla nostra bocca sono state ripetute troppe volte. Roberto. Grazie Carlo. Io vorrei, cogliere questa opportunità per ringraziare innanzitutto il fraterno amico Carlo Malchimoghi Sismonti, con cui tutte le volte che ci incontriamo e lavoriamo diavolerie incredibili. Meglio che ci potremmo poco, altrimenti non ci confeschiamo. Veramente, una minima parte delle quali ci siamo realizzate, ma però, credo, in una direzione molto interessante. E quindi ragionando insieme abbiamo detto, ma accogliamo questa opportunità per mettere insieme persone ed esperienze, storie, perché in realtà l'innovazione è il racconto di storia dell'innovazione, di storie diverse, è contaminazione e scambio di esperienze in questo senso. Ecco, vediamo di raccontare le storie degli government che sia nell'esperienza dei paesi maturi, sia all'interno di quella fresca e innovativa dei paesi via di sviluppo. Abbiamo avuto l'opportunità di avere con noi sia academics che practitioners che vengono da università prestigiosi a livello internazionale, la Longos Club Economics, la Schwan University di Pretoria, la Università di Aldo che è in Limarca, e ognuno di loro porta con sé storie diverse. E quello che abbiamo detto è che facciamone un'esperienza mutua di apprendimento, una learning experience, attraverso il confronto di queste storie. Vediamo cosa riusciamo ad imparare dalle storie degli altri. Perché qui ci sono due concezioni fondamentali all'interno di questa cosa che Hicks dà questa definizione di government, di ICT enable the route to good governance. Di fatto l'insieme delle soluzioni ICT per la pubblica amministrazione che riguardano sia i processi interni a questa sfera sia le interazioni di foresti cittadini. E ci sono due diversi tagli, un taglio che è un taglio orientato maggiormente all'efficienza dei processi e un taglio orientato maggiormente agli aspetti di partecipazione, di trasparenza, di socializzazione e di inclusione sociale. E allora abbiamo detto mettiamo a confronto queste esperienze e queste testimonianze. per questo noi suddivideremo questa sessione di oggi in due parti. Una prima parte dove abbiamo invitato tre amici importanti, il professor Antonio Cortella, docente di Information System e Policosecino alla London School of Economics e che si occupa in particolare dell'ICT di questo del Repubblico, il governo, i cambiamenti istituzionali e dei soci associati. Ovicinariamente italiano, ma abbiamo ragionato un pochino, abbiamo detto benissimo, ognuno parla della sua lingua e lui è stato l'inglese. Questo lo dice Luca, perché stanno chiesto. Alla fine abbiamo deciso di parlare in inglese, però come c'è l'Italia rispetto alle slide che presenta. Il secondo speaker di questa sessione sarà Shilin Menor, che è il signor lecturer in Information System, International Development, London School of Economics, and Political Science, che è l'autrice di questo stupendo libro, che è di come una sua di prima development esperienze di anni, di cui ci parlerà, quando vi sia in particolare, e che è un testo che io suggerisco assolutamente a tutti, perché è un testo importante, nel quale si sviluppa tutta questa tematica di che cosa può fare di governo per lo sviluppo. Non ti interrompo solo con la notazione di servizio. Tutte queste informazioni, ovviamente, senza bisogno di rifrendere tutti appunti, dato che tutti abbiamo tutte le vostre email, perché vi siete scritti, vi rimandiamo i titoli dei libri, i riferimenti bibliografici, le slide che saranno presentate, in maniera che possiate averle come bagaglio condiviso di esperienze e di cultura condivisa. Assolutamente. E metteremo a disposizione anche il video di questa giornata, in modo che possiate ripercorrere la sua desiderata un'esperienza di me, e la torni di testi e presentazioni. Quindi abbiamo parlato di Schiri e il terzo speaker di oggi, di questa prima sessione, è Marmo Munchi, che è il check holder dell'Institut for Economic Research and Innovation alla Schwan University of Technology in Pretoria, in Sudafrica, ed è direttore del centro di ricerca sui studi sullo sviluppo e relazioni internazionali dell'Università di Algo in Danimarca, e infine è editore dell'African Journal of Science Technology in Innovation and Development, all'interno del quale vengono pubblicati molti dei contributi più interessanti e più innovativi per questo tema, e immagino, visti i suoi luoghi di lavoro, si è un'utilizzata proprio molto. Io direi che questi speakers li inviteremo a tenersi nell'arco di 25 minuti, in modo da dare un po' di spazio, se è possibile, a domande diretti rispetto a ciascuno di loro nel corso del workshop. Nella seconda parte abbiamo invitato una serie di autorevoli e esperti italiani, Claudio Forghieri, che è il direttore scientifico di D.gov, e Flavia Massano, la Presidente dell'Associazione Stato Generale dell'Innovazione, e il Rezo Duranto, che è il capo del DDI, che ci ospita. E con l'occasione ringrazio per l'ospitalità, ho aperto in questa stupenda sala, oggi, in una sede così prestigiosa, questo nostro seminario. di Franco Bassanini, che è noto precedentemente Ministro della pubblica amministrazione, attualmente è Presidente della Fondazione Astri. E se ci sarà possibile, che io credo che ci sarà possibile, alla fine avremo anche un momento, come dire, collettivo di riflessione rispetto alle cose che si sono dette, e la vostra partecipazione è estremamente interessata, e naturalmente la potete realizzare sia attraverso domande e osservazioni a termine di ogni intervento, sia nel prep-up finale. Grazie.